Ben ritrovati amici di YouTube, buona domenica, domenica sera, si può già fare un bilancio di questa quarta giornata di campionato, ma soprattutto i temi sono quelli legati al mercato. Ci sono due situazioni importanti riguardanti due big, ma ci sono anche degli aggiornamenti significativi da darvi sul futuro di alcuni protagonisti del nostro calcio. Uno su tutti Vincenzo Montella, Montella che è pronto a tornare in pista, Montella che può allenare una nazionale, ce lo potremo trovare di fronte all'europeo d'avversario. Montella infatti è il candidato principale alla panchina della nazionale turca. Sorpresa, sorpresa importante perché c'è stato un ribaltone sulla panchina della nazionale turca e Montella, l'aeroplanino, può decollare verso Istanbul. Turchia dove lui ha allenato con ottimi risultati dal 2021 al 2023, due anni molto positivi, dove aveva preso la Danademi Sport in zona retrocessione e l'ha portata sino al quarto posto, a ridosso delle big, Galatasaray, Fenerbahce e Beşikta, su un grande lavoro, esprimendo un ottimo calcio che non è passato inosservato. Tanto che la federazione turca ha avviato i contatti nelle scorse ore con Vincenzo Montella per affidare la nazionale. Non c'è ancora l'accordo all'interno della federazione, c'è chi spinge per un allenatore straniero e hanno individuato in Montella come prima scelta. L'alternativa è l'ex-CT della nazionale tedesca Joachim Löw, ma il preferito è Vincenzo Montella. C'è però anche chi invece vorrebbe un tecnico indigeno, tra virgolette, un tecnico turco, un tecnico come Fatih Terim, un vecchio santone del calcio internazionale, anche se un po' in decadenza, qualcuno ha caldeggiato anche altri nomi, ma in questo momento sicuramente Montella è in prima figa ed è una chance importante per rivedere in pista l'ex allenatore di Milan e Roma. Ma a proposito di tormentoni che stanno finendo invece, Boulaye Dia è tornato in mattinata a Salerno, ha salutato Paolo Sosa, ha parlato con la società, ha parlato con il gruppo, con i compagni, diciamo che non ha chiesto scusa ma un po' si è cosparso il capo di cenere e quindi anche per i fantallenatori Dia lo rivedremo con la maglia della Salernitana a breve. Non domani, Salernitana a Torino la salta, sarà in tribuna, farà gli esami, c'è da capire i tempi di recupero dopo il problema fisico che ha avuto con la nazionale senegalese settimana scorsa, ma al più tardi, credo che ai primi di ottobre alla peggio, sarà in campo con la maglia della Salernitana e dunque Salernitana che ritrova la sua stella. Montella, prima scelta della nazionale turca, Dia il caso rientra. Il tormentone sta finendo, breve recap di quello che era successo, lui doveva rientrare mercoledì a Salerno, è rientrato solamente oggi, quindi tre giorni e mezzo dopo. Lui voleva andare via, Bouguille Dia l'ultimo giorno di mercato aveva accordo con Wolverhampton che non ha trovato accordo con la Salernitana, la Salernitana voleva 25 milioni, Wolverhampton fia prestito oneroso con diritto di riscatto, obbligo legato a condizioni non semplici da raggiungere, soprattutto poi la Salernitana non avrebbe avuto materialmente il tempo per trovare un sostituto all'altezza. Dia ha preso male questo rifiuto da parte del club Granata, c'è stata un'alite, non è stato convocato per necessarietà, è andato in nazionale, poi tutto quello che è accaduto negli ultimi giorni, alla fine il caso rientra, tutto bene, quel che finisce bene. A proposito di cose che finiscono bene, beh è stato il triunfo dell'Inter nell'ultimo derby di Milano, 5-1 doppietta, forse da uno dei protagonisti meno attesi, Henry Mkhitaryan, perché in settimana avevamo letto, sentito, tutti, fortissimo, ma tutti, deve giocare fra tesi, deve giocare fra tesi. No, Mkhitaryan alla fine Inzaghi ha scelto di testa sua, ha messo l'Armeno e l'Armeno ha risposto presente con una doppietta d'autore. Mkhitaryan che è in scadenza 30 giugno 2024, già in estate c'era stato un primo contatto tra Marotta e Ausilio con Raffaella Pimenta per darsi appuntamento più avanti a livello temporale per il rinnovo, perché l'Inter Mkhitaryan se lo tiene stretto, perché per Inzaghi è un fedelissimo, per Inzaghi è un giocatore titolare fondamentale, tanto che stiamo vedendo un giocatore valido e forte come fra tesi, si avviene difficoltà a scalzare Barella, Cialanoglu e appunto Mkhitaryan, che sulla carta sembrava l'anello debole, ma che poi in campo, come al solito, ha un rendimento elevatissimo. Mkhitaryan che sta bene all'Inter e vuole restare, quindi ci sono tutti i presupposti per sedersi poi nelle prossime settimane, nei prossimi mesi e allungare il contratto. Mkhitaryan ha 34 anni, ma insomma sta avendo un grande rendimento, l'idea delle parti di allungare sino al 2025, vedremo se bisognerà sfigacciarli di ingaggio, se lasciarli attuali emolumenti, ricordiamo che Mkhitaryan usufruisce del decreto crescita, l'Inter costa 6.200.000 euro a bilancio, lui guadagna 4 netti più premi, ma dimostrato l'anno scorso essendo un grande protagonista, ma anche quest'anno di Valerdi naturalmente tutti e credo che alla fine si possa arrivare a questo prolungamento, così come si dialogherà nelle prossime settimane, ma questo ve l'avevo già anticipato in tanti video delle scorse settimane, trovate tutto, per i rinnovi che adesso campeggiano sui giornali, di Lautaro Martinez, ovviamente di Federico Di Marcos, scadenza entrambi 2026, l'Inter vuole portare tutte e due al 2028, così da evitare tentazioni, mal di pancio, situazioni spinose, ovviamente adeguare gli emolumenti di entrambi, soprattutto di Di Marco che è l'unico titolare del club nerazzurro, che ricordiamo guadagna meno di 2 milioni a stagione, quindi si aspetta ovviamente un rialzo all'insù, essendo titolarissimo nell'Inter e titolare anche della nazionale italiana, Lautaro Martinez è già uno dei più pagati della Serie A, ma è chiaro che un ritocchino all'insù lo riceverà. Chi invece potrebbe ricevere non un ritocchino all'insù, ma all'ingiù, o meglio dovrebbe spalmare i suoi emolumenti su più anni, adesso vi racconto tutto, è Dujan Vlaovic. Vlaovic che doveva andare via, non sono per arrivato offerta all'altezza, lo volevano sbolognare al Chelsea, Allegri voleva Lukaku, alla fine non se n'è fatto nulla, è rimasto come voleva la maggior parte dei tifosi e sta rispondendo alla grande, super presente Dujan Vlaovic, che adesso sta bene, la Puba al Gia è un lontano ricordo, la Puba al Gia che l'aveva tormentato per sei mesi l'anno scorso, i guai fisici sono alle spalle, adesso che sta bene fisicamente è il Vlaovic che conoscevamo a Firenze, un attaccante da un gol a partita, quattro presenze, quattro gol e un rigore sbagliato, altrimenti poteva essere a quota 5 in classifica marcatore, quindi in vetta la classifica cannoniera al pari di Lautaro, che è l'attuale capocannoniere della Serie A. Dujan Vlaovic guadagna, e qui bisogna raccontare un po' bene il contratto che gli ha fatto in maniera un po' folle per certi aspetti, Maurizio arriva bene nel gennaio 2022, guadagnava 7 milioni la prima stagione, 8 il secondo anno, 9 più bonus per arrivare comodamente oltre i 10 quest'anno, oltre i 10 l'anno prossimo e 12 l'ultimo anno. Ovviamente la Juve Vlaovic se lo vuole tenere stretto, però non ha decreto crescita, perché lui già giocava in Italia, quindi non ha i benefici fiscali, cosa vuol dire? Vuol dire che la Juve l'ultimo anno costerebbe oltre 24 milioni lordi, l'anno prossimo costerebbe più di 20 milioni, quest'anno costa tra i 18 e i 19 milioni, sono tanti, troppi soldi per un club che vuole abbassare Montengaggi e vuole naturalmente, oltre ad abbassare Montengaggi, anche un pochino rendere più sostenibili le proprie casse societarie. E allora che succede? Adesso vi spiego un po' tutto, qual è il piano di Giovanni Manna e che siamo giunti. Nel frattempo un inciso, non di poco conto, la gente di Vlaovic in questi giorni è stata a Milano, è stata a Torino, è stato in Italia a parlare con alcuni calciatori o diversi assistiti, ma ovviamente è stato a Torino base fissa perché lì ha due delle sue punti di diamante, Radonic nel Torino, che ha un talento discontinuo ma ha dei colpi importanti e spera che quest'anno possa venire fuori, e Dujan Vlaovic, ed era anche, non è passato inosservata la sua presenza, che possiamo confermarvi con assoluta certezza e senza timore di smentita, era Juventus-Lazio. Ha portato anche bene al suo assistito perché Vlaovic ha fatto una grande partita, ha fatto due gol. Si parlerà nei prossimi giorni, si avvieranno i contatti tra la dirigenza della Juve e i rappresentanti di Vlaovic per iniziare a parlare di questo possibile prolungamento. Vlaovic scade nel 2026, l'idea della Juve allungare il 2027-2028, spalmando un pochino l'ingaggio così da renderlo un po' più sostenibile. Vlaovic sta bene alla Juve, quindi Vlaovic ha dato apertura al suo entourage. Adesso è da capire se poi l'idea di Vlaovic e del suo entourage della Juve a livello di numeri riusciranno a collimare, a trovare un incastro, a intersecarsi in una sorta di accordo che possa soddisfare tutti. Ci sarà tempo e modo di parlarne, ma la sensazione è che è cambiato lo humor, è cambiato il sentiment, è cambiato quello che circonda Vlaovic. Vlaovic adesso è felicissimo alla Juve. Era già felice quest'estate, lui voleva restare, non era così convinto di andare via, ma adesso è strafelice. La Juventus alla fine voleva Allegri-Lukaku, non è arrivato ma ha trovato in Vlaovic, un giocatore forte, altrettanto prolifico e molto più giovane, perché non dimentichiamo che Lukaku non è un ragazzino, mentre ha 30 anni, mentre Vlaovic ne ha 23. Quindi la differenza mi pare sostanziale e sostanziosa dal punto di vista della carta d'identità e dell'anagrafe. E quindi, secondo me, c'è la sensazione che poi si possa in qualche modo sedersi al tavolo delle trattative per arrivare a una quadra, quello che la Juve vuole fare con Vlaovic, quello che la Juve vuole fare con Scesni, con Chiesa, con Rabio vuole blindare le sue stelle, cercando di ammortizzare i costi o di spalmare o quantomeno di non fare dei rinnovi al rialzo. Discorso diverso per Gatti che invece entro fine mese rinnoverà fino al 2028 e vedrà i suoi monumenti aumentare, ma in questo caso lui guadagnava 500.000 euro più bonus, passerà un milione più premi, come giusto che sia per un titolare bianconero, anzi, considerate i prezzi che ci circondano, tutto sommato è ancora a buon mercato. Grazie per essere stati in mia compagnia, ci vediamo domani con tante novità di mercato, voglio i vostri pareri, fa bene la Juve blindare Vlaovic, le mosse dell'Inter, Mkhitaryan merita il rinnovo, D.A., siete contenti di fuori della Serenitana che è rientrato il caso, e ovviamente Montella sulla panchina nazionale turca. Come lo vedete, voglio i vostri commenti, i vostri feedback, le vostre considerazioni, le vostre opinioni, tutto qua nei commenti sotto il video che naturalmente vi invito come al solito a condividere, spammate ovunque, più siamo meglio è, più ci divertiamo, siamo oltre a 20.300, cerchiamo di arrivare a 20.500, perché no, 21.000 magari entro fine mese sarebbe un bel regalo per chiudere settembre. Grazie a tutti, a domani, ciao!